Termina con un pareggio sullo 0-0 la partita fra Lama e Voluntas Spoleto, partita priva di emozioni e con pochissime occasioni da segnalare. Nei primi 45 minuti, al 25esimo minuto, lo Spoleto si rende pericoloso con uno sfondamento nella fascia destra di Anetovic che arriva sul fondo e crossa per il numero 10 storiani che conclude di prima sul primo palo ma giunti e attento e para. Nella ripresa, sempre lo Spoleto ad essere pericoloso su da calcio d'angolo, al 20esimo minuto, palla che arriva a della Spoletina che svetta ma la conclusione termina alta. Al 25esimo minuto, brutta palla persa dalla difesa del Lama, Anetovic si invola dentro alla di rigore, da buona posizione conclude ma è bravo giunti a respingere. Non succede più niente, partita molto combattuta a centro campo ma priva di occasioni da segnalare. Io penso che abbiamo fatto una buona partita, venire a Lama che sappiamo che è un campo sempre difficile dove devi combattere forse dal riscaldamento perché comunque è un campo molto difficile e molto ostico. Siamo venuti con l'atteggiamento giusto, piano piano abbiamo preso anche a tratti dei due tempi forse un pochino di supremazia di campo, abbiamo provato ad attaccare stando sempre attenti alle ripartenze. Penso che hai detto bene, non ci sono state grandi occasioni se non qualche palla inattiva e forse abbiamo sbagliato in due circostanze l'ultimo passaggio da mettere in porta l'attaccante solo davanti al portiere. Sicuramente una buona prova, nel senso che come dicevi tu si è fatto male Stefano Bartolini poco dopo, è entrato Diego Calderini alla prima occasione, è subito girato alla caviglia, quindi è dovuto fare un altro cambio pure lì. Però i ragazzi oggi hanno avuto un atteggiamento positivo. Grazie a tutti.